Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui vedremo le migliori 10 novità di iOS 7 Beta 4 il nuovo aggiornamento rilasciato qualche giorno fa prima di cominciare vi voglio ricordare che se siete interessati ad installarlo potete seguire questo video detto questo iniziamo partendo dalla prima novità come vedete nella lock screen gli indicatori che ci permettono di accedere al control center e al notification center sono delle semplici linee orizzontali mentre prima erano delle freccine che davano una verso l'alto e una verso il basso mentre ora sono appunto orizzontali la seconda novità sono i nuovi bottoni dell'applicazione telefono più squadrati mentre prima erano delle semplici strisce perfettamente rettangolari ora come vedete hanno i bordi un po' più squadrati la terza novità sta nel menu di ricerca spotlight come prima cosa è stato aggiunto il bottone annulla e poi tendenzialmente è molto più veloce la ricerca quindi l'indicizzazione è stata decisamente migliorata la quarta novità sta nell'applicazione fotocamera sono cambiate davvero tante cose come prima cosa la terza sezione ovvero la sezione quadrato è stata sostituita dal nome 1 a 1 dopodiché il bottone per attivare l'HDR è stato spostato in alto come vedete in questa posizione e infine i filtri che finora eravamo abituati a vedere solo su iPhone 5 sono stati aggiunti anche su iPhone 4 e iPhone 4S la quinta novità sta nell'applicazione promemoria infatti è stata aggiunta una barra di ricerca quindi se abbiamo tanti promemoria possiamo tranquillamente andare a cercarli componendo il testo nella barra di ricerca appunto che si è implementata in questa nuova beta 4 la sesta novità sta in Siri infatti come prima cosa andando nel menu di richiesta sono state aggiornate e aggiunte tutte le icone alle domande e è stata aggiunta anche una nuova sezione ovvero Question and Answer abbreviata in Q&A questa sezione appunto ci mostra le domande dirette che potremo fare a Siri come per esempio quante calorie ha una pizza qual è la città più grande della California eccetera la settima novità è questa nuova scheda nelle impostazioni di notifica ossia upload completati quando il nostro dispositivo completerà un qualsiasi upload su internet ci verrà mostrata una notifica l'ottava novità sta nei nuovi bottoni per gli account Gmail nell'applicazione mail predefinita di iOS prima erano infatti la classica busta rossa ora hanno il simbolo di Google Search la nona novità sta nell'applicazione musica infatti come vedete è stato giunto il bottone riproduzione casuale grazie a questo come tutti sapete potremo riprodurre dei brani scelti a caso dalla nostra libreria musicale e infine la decima e ultima novità sta che quando spegneremo il nostro dispositivo lo slider per spegnerlo non sarà più tramite la scritta spegni bensì la scritta scori per spegnere il che si intona perfettamente con la scritta scori per sbloccare nella lock screen quindi queste erano le top 10 novità di iOS 7 e beta 4 se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace e come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale inoltre vi ricordo di seguirmi su Twitter e su Facebook un saluto ciao a tutti